Buonasera, oggi 14 marzo 2018, la famiglia Russo e Cimino registra questo video per fare un ultimo appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e al Ministro degli Interni, Marco Minniti. Siamo indignati che lo Stato italiano ci faccia vergognare di essere italiani. Vi informiamo che se non otteniamo una risposta nei prossimi giorni siamo disposti a partire per il Messico, a nostro pericolo, per cercare la nostra famiglia anche a rischio di non fare più ritorno. Il Dottore Angelino Alfano, l'unico che ci ha ricevuto, non ha mantenuto la promessa di mandare forze italiane a collaborare con la polizia messicana, di cui non ci si può fidare, datosi che proprio loro hanno rapito e consegnato i tre italiani alla mafia messicana. Siamo stanche, vergognati.